Siamo in via attraversa 4 novembre dove ieri intorno alle 15 è accaduta l'esplosione, un'esplosione fortissima, un boato che è stato sentito fin sopra al paese dove abita l'assessore Andrea Petruzzo, l'assessore ai lavori pubblici di Gesualdo. Assessore, la sua testimonianza? Sì, era intorno alle 15, ero a casa con mia moglie e tutto ad un tratto abbiamo sentito questo forte boato. Inizialmente pensavamo che fosse un rumore dettato dal vento oppure da qualche altra circostanza, poi ci siamo resi conto che in realtà questo rumore l'avevano sentito un po' tutti quanti i nostri vicini di casa. Di conseguenza ci siamo un po' attivati per capire cosa fosse successo. Da un giro di chiamate è emerso poi che purtroppo c'era stato l'incendio al deposito del compianto Michele D'Adamo e quindi personalmente insieme ad altri amministratori ci siamo precipitati sul posto per capire cosa fosse successo. Purtroppo dopo abbiamo constatato che si era verificato un vero e proprio disastro. C'è stata tanta paura da parte di tutti quanti i cittadini per quello che si è verificato ma una paura che poi era venuta meno a favore della speranza che Michele potesse uscirne vivo da questa situazione. Purtroppo non è stato così e di conseguenza è andata a finire male con le conseguenze che conosciamo tutti. Dietro di noi i carabinieri, la scientifica, i vigili del fuoco stanno continuando a fare dei rilievi. Noi non possiamo avvicinarci perché ovviamente la zona è sotto sequestro ma qui è campagna, è aperta campagna. Ulivi, c'è un vivaio ed effettivamente a guardare, a osservare ci sono molti detriti arrivati fino a 200 metri di distanza da dove è accaduta l'esplosione. Delle villette sopra hanno vetri rotti, porte di velte. La situazione è veramente apocalittica. Michele D'Adamo era una persona molto conosciuta da decenni. Era un fuochista famoso in tutta la Valle dell'Ufita a Gesualdo. Ieri dopo l'esplosione sono accorsi tanti cittadini. Sì, quando siamo arrivati insieme agli altri amministratori qui abbiamo trovato più di 200 persone che si sono precipitate per vedere cosa fosse accaduto e soprattutto per sincerarsi delle condizioni di salute di Michele. Michele era una bravissima persona, una persona che amava molto il suo lavoro, una persona molto presente in paese, soprattutto quando si faceva festa. Era uno di quelli che comunque cercava sempre di fare le cose non per il proprio lavoro ma principalmente per il proprio paese, quando le faceva Gesualdo. La sua professione l'ha portata avanti con grande determinazione. Basti pensare che quando ha partecipato in varie occasioni alla gara dei fuochi a Grotta Minarda, al festeggio di Grotta Minarda, più volte è riuscito ad aggiudicarsi il primo posto. E queste sue vittorie poi le condivideva con i cittadini Gesualdo in piazza, le festeggiava. Mi ricordo un anno che portò la Coppa in piazza per condividerla con tutti quanti noi ragazzi di Gesualdo. Questo credo che sia uno dei ricordi che noi porteremo sempre nel nostro cuore e impressi nelle nostre menti.